Ciao raga, oggi siamo su Minecraft e andremo a giocare una mappa di D-Cube Cominciamola subito Ok Benvenuti in D-Cube, ti ricordo che questa non è una mappa del tutto identica al film originale L'ho personalizzata un po' ma lo scopo è sempre lo stesso Attraversare le stanze facendo attenzione alle trappole nascoste, fare figli e tutto il resto Ricorda che non servono i soliti meccanismi di Minecraft per far scattare una trappola Basta la tua presenza E io vi ringrazio di aver aggiunto questo Ti ho dato 10 palle di neve per controllare se ci sono trappole Usala con cautela, una volta finita ti dovrai affilare al caso, buona fortuna La ringrazio per aver fisso i cartelli e avermi tartassato i coglioni già all'inizio, molto bene E mo? Oh, scusatemi non l'avevo visto Ok siamo partiti Sei partito da qui La ringrazio per avermelo ricordato Ok raga, io non vi mento Ho già giocato a questo gioco una volta, a questa mappa E sono andato da questa parte Ci sono rimasto Perciò a scarso di equivoci questa volta andiamo di qua Salve C'è nessuno? Per favore non mi uccidete Ok Non uso già subito la palla di neve Tanto siamo alla prima stanza quindi Rischio Au Ancora vivo Bene allora dato che iniziamo così Subito dritti, così Senza motivazione Salve Buongiorno Guardi le chiudo anche le porte perché dovete uccidermi Sono un gentleman Eh giustamente dai Molto bene Stiamo andando da dio Sì tanto adesso lo so che muoiono È inutile che mi guardate così Sinistra A caso Questa stanza non mi piace Ma sì dai ho dieci palle di neve a sto punto Usiamone una Giusto per Ah ecco La ringrazio Molto gentile Grazie dell'ospitalità Ma io me ne devo andare Salve Io ho sbattuto la porta in faccia Speriamo non si incazzi Ok Allora passiamo dall'altra parte a sto punto Stesso discorso di prima Gentleman Chiuso porta Non uccidetemi Ma questo è un verde antisettico? Vado? Vado? Posso? Grazie Molto bene Adesso Destra Ok andiamo a destra Direttamente così Un'altra stanza gialla Bene Rischio? Ma sì dai Ha fatto Praticamente è mezz'ora che gira a vuoto Le palle di neve sono quasi finite Alcune stanze però ti danno del cibo Infatti ho le bistecche Giusto per farti sopravvivere E per aumentare di più il dolore Capito? Vabbè a sto punto Dai record di mezz'ora Record di mezz'ora Mi sa che ho battuto qualsiasi record mondiale Di questa mappa Lancio vai Ok Nessuna trappola Perfetto Eeeh Ma sì Direttamente di quata No che poi Il bel No No Questo non me lo potete fare Ti prego no Ti scongiuro Ti scongiuro Qualsiasi Non ho il coraggio di guardare Non ho il coraggio di guardare Non ho il coraggio di guardare Vaffanculo Mezz'ora ho girato Ho girato mezz'ora E sono tornato esattamente Nel punto dal quale sono partito Ma grazie Vabbè raga Eeeh Concludo qui il video Mi complimento con chi ha fatto questa mappa Perché sei riuscito a disorientarmi E non è per niente facile Te lo assicuro E con questo vi lascio Ciao raga Io sono Trumpset E questo è il mio canale E questo è il mio canale